Il Polarisi invece prima è l'ultimo Ci provo adesso No, non provo Ciao Mario! Vabbè pure stai Dai, fai la salita Fai la salita Non sono tanto casino C'è mio cugino C'è mio cugino è privato Dai dal gas Dai! 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 Miau! Dai! 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 Da Oh 位 Ehi! 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 Wow! Wow! Ehi! Ehi! un po' di... Sì! Oh yeah! Paolo, due ieri, una stamattina. Se eri al telefono che non sa questo genere. Cazzo Temina! Sta bene! Era passato! Sta bene! Era passato! Ma dopo guardiamo il filmato perché non ho capito dove va... Non ho visto dove va la puntata! Da sopra! Vabbè, ma ce l'ho provato! L'ho provato con l'arugio e dopo l'arugio. Sta piano, povero! Sta con il cavo! Sta con il cavo! Non dovete fare la centrifica! È andato in tensione al cavo, cacchio! Non vuole uscire! Sta dentro! Sta dentro, ah! Sta dentro, ah! Io vado di me in un riscorso! Io sono portei il telefono! Non c'è tutto! Non c'è tutto! Non mi muovo da dentro! che dà se capotare sto lì non muovo beh, che dà colì? adesso sono un pochino variante non ci credo oh cavo è meglio è meglio sempre meglio non andare non andare non lo so Dio che ci dov'è sta wow vi dotta male ok ehi vo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.